grazie innanzitutto per l'invito considero l'attenzione che viene messa su sui temi che riguardano il Mediterraneo molto importante e in crescita nel corso di questi anni perché come dimostra la vostra iniziativa si è compreso ormai in maniera eh piuttosto seria di quali siano stati in particolare sul versante europeo ma anche della sponda sud i veri e propri ritardi che si sono accumulati nei confronti di quest'area del mondo che per molti versi veniva detto eh prima anche in uno degli interventi che sono stati letti è stata considerata più una barriera che un ponte di comunicazione. Il Mediterraneo affronte io ho dei dati leggermente diversi rispetto al vostro video nel senso che mi risulta che nel Mediterraneo transiti il venticinque per cento del commercio mondiale non il dodici per cento del commercio mondiale eh perché probabilmente si fa una distinzione tra idrocarburi e beni servizi che evidentemente hanno un peso significativo ma eh Mediterraneo anche per ragioni di carattere geopolitico è in questo momento nelle nostre mani non nelle nostre come italiani né nelle nostre come europee nelle mani di tutti i colori i quali si affacciano su quest'area e che in qualche modo sono legati a quell'area che si chiama del Mediterraneo allargato quindi eh anche in relazione ad un mutato assetto geopolitico che vede un interesse per esempio degli Stati Uniti sempre più rivolto all'area indopacifica e alla competizione con la Cina oggi il Mediterraneo ha una diciamo occasione che non può eh smarrire e ovviamente per non smarrirla va realizzato una infrastruttura sistemica politica e anche infrastrutturale eh materiale che eh possa garantirgli una eh capacità di non solo di sopravvivenza ma di sviluppo e anche di coesistenza pacifica. Questa premessa eh la la volevo sottolineare perché anche il vostro eh incontro anche la vostra proposta di costruire un'area eh nel quale possono essere controllate le emissioni eh lo considero un contributo ulteriore a quel riconoscimento della soggettività mediterranea perché Enzo Bianco ha detto una cosa molto importante e giusta. Lui ha collaborato con l'Unione per il Mediterraneo ma io che conosco molto bene ovviamente l'Unione per il Mediterraneo anche per ragioni di lavoro eh da molti anni so anche che l'Unione per il Mediterraneo è diventata la cenerentola delle iniziative europee e che il processo di Barcellona non ha prodotto quello che aveva promesso tant'è che eh gli elementi che caratterizzano eh questo tipo di eh di azione se non fossero corroborati anche da interventi esterni come quello del Comitato delle Regioni Europee non avrebbero quella forza che invece dovrebbe risiedere direttamente nel Consiglio europeo dove i governi che decidono la politica europea avrebbero dovuto prendere delle iniziative che sul Mediterraneo non prendono mai se non nei termini di contenimenti di minacce asimmetriche come stava come stato detto prima. Allora direi e se mi posso permettere anche questa fa parte di questo ragionamento bisogna lavorare dal basso. Il basso non il bassissimo diciamo così ma il basso cioè le istituzioni che realmente credono in questo tipo di eh investimento e anche nel fatto che questa è una mia opinione personale quello che sono state le regioni del sud-est asiatico negli anni ottanta potrebbe diventare l'area del Mediterraneo cioè un'area di fortissimo sviluppo e anche di fortissima integrazione economica. Per avere questo però bisogna avere un ambiente sano e pulito. Io sono stato parlato alla COP26, ho parlato a alla plenaria della eh della high level segment eh sostenendo la proposta che adesso vi vi illustrerò. Siamo presenti e saremo presenti con il nostro vicepresidente alla COP22 dove eh riteniamo anche lì fondamentale sostenere le nostre proposte. Noi già dal duemila e quindici come assemblea eh del parlamentare del Mediterraneo lanciamo la proposta di una carbon tax e mi fa piacere che venga eh diciamo indicato nel report che ha illustrato Enzo eh anche l'obiettivo della decarbonizzazione completa. Ma su questo versante io penso che bisogna ragionare in termini organici se mi permettete anche pratici. Noi abbiamo eh elaborato una proposta. La proposta è quella della costituzione di una comunità economica mediterranea e del Golfo delle energie rinnovabili. Sulla base di una suggestione che è però anche eh io l'ho proposta alla COP26 al in uno dei site event del G20 eh nel World Green Economic Summit che si è tenuto a Dubai. Stiamo lavorando perché ovviamente è una decisione eminentemente politica ma sulla suggestione di quello che fu la cieca nel mila e centocinquantuno per dare un indirizzo unitario perché si innanzitutto per il contenuto cioè le energie rinnovabili come veniva detto sono la infrastruttura necessaria per garantire uno sviluppo equo perché a differenza delle energie da idrocarburi non sono localizzate il sole c'è dappertutto la possibilità di investire un sulle energie rinnovabili e sul loro stoccaggio per cambiare il modello di sviluppo è assolutamente fondamentale ci sono delle attività fortemente energivore penso per esempio alla desalinizzazione che eh potrebbero essere sostenute da un'attività eh di eh con produzione di energie rinnovabili anche perché ci sono dei paesi noi abbiamo tra i nostri trentaquattro parlamenti paesi del Golfo che dipendono esclusivamente dalla eh desalinizzazione dell'acqua e siccome i paesi che hanno la desalinizzazione sono quelli che hanno il petrolio perché altrimenti non avrebbero le risorse energetiche necessarie ci sono dei paesi che non hanno idrocarburi e che invece necessiterebbero anche di un accesso all'acqua eh adeguato che potrebbero per esempio eh essere soggetti di investimenti ai quali si rivolgono investimenti sulle energie rinnovabili inoltre dal punto di vista geopolitico è evidente che nella frammentazione anche nel conflitto piuttosto permanente all'interno dell'area in particolare meridionale anzi nell'area meridionale eh del Mediterraneo c'è bisogno di un fil rouge che inizia a far comunicare eh i vari paesi evidente che due paesi faccio un esempio confinanti come Algeria e Marocco in questo momento hanno una gravissima tensione tra di loro sono confinanti hanno ovviamente il tema dei Sarawi però per andare da Rabatta a Tangeri ad Algeri devi passare per per Parigi e la possibilità di avere una partnership che inizi a ragionare su i comuni interessi di una transizione ecologica sul piano energetico e di un'autority dell'acqua secondo noi potrebbe essere uno strumento non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista politico di promozione di forme di integrazione questa diciamo è una proposta che noi stiamo facendo attraverso le nostre delegazioni parlamentari io stesso presenterò un progetto in questo senso in nel Parlamento italiano ce n'è già uno presentato nel Parlamento francese quindi diciamo che è un tema molto di prospettiva però se non si parte adesso evidentemente non si raggiungono gli obiettivi la seconda questione che volevo sottolineare è il fatto che noi ci dobbiamo conformare a quello che diciamo è sintetizzato nel punto 7 del sustainable sustainable development goals delle Nazioni Unite perché ritengo che quello sia il punto centrale da acquisire come modello di riferimento per i decisori politici e quindi diciamo in questo senso avere una possibilità di intervento su quello che sono sia il piano energetico sia il piano della riduzione del consumo quando si faceva riferimento all'economia circolare io cercherò di concludere rapidamente penso che si debba tenere sempre conto che il cambiamento climatico è responsabile di un pezzo dei problemi climatici non di tutti i problemi climatici perché l'innalzamento della temperatura è una ha una responsabilità per esempio sui processi di desertificazione che sono però talvolta inferiori ad atteggiamenti come quello delle coltivazioni intensive piuttosto che del disposcamento per l'utilizzo del carbone cioè abbiamo la necessità di ragionare in termini scientifici io ho un background io sono un fisico di formazione quindi diciamo ho un background molto orientato su conteggi bilancio noi dobbiamo cambiare il modello di sviluppo cioè se non garantiamo attraverso la equa cooperazione la capacità di sviluppo che tutti questi paesi abbiano una loro opportunità di sviluppo utilizzando anche delle moderne tecnologie perciò io penso all'energia come elemento trainante non andremo da nessuna parte ultima cosa una cosa pratica sulla vicenda che vi riguarda più direttamente cioè delle missioni delle delle navi allora dico che cosa sto seguendo io direttamente io ho proposto un emendamento che poi è stato trasformato in ordine del giorno per la rottamazione delle navi in Italia perché per facilitare la rottamazione delle navi in Italia che come sanno ovviamente gli operatori che più di me conoscono l'argomento viene fatta per ragioni eminentemente economiche in paesi dove non è garantito il ciclo ecologico diciamo così dalle nostre parti basterebbe un piccolo finanziamento che io ho proposto anche fosse attinto dal PNRR per avere una rottamazione che già diciamo così avrebbe dei benefici anche sull'attività del dei cantieri che spesso sono in crisi ma soprattutto che consentirebbe un ricambio che molti armatori vogliono fare verso il gas liquido in modo tale che questo possa essere anche il momento di innovazione poi arriveranno anche diciamo i motori elettrici ma questo non so fra quanto diciamo potrà essere realizzato ma dal punto di vista dell'utilizzo del gas liquido noi abbiamo bisogno innanzitutto che si cambi diciamo così la flotta e la seconda cosa è che si dotino le infrastrutture i porti perché questo è un altro elemento che sto seguendo anche direttamente penso che sostenere il fatto che debbano essere delle infrastrutture adeguate per far raggiungere i porti anche dalle pipeline per il gas liquido è assolutamente indispensabile perché altrimenti si cambiano le diciamo le armamenti e non si ha il diciamo la possibilità poi di utilizzarli quindi noi dobbiamo lavorare su un tratto che è quello di consentire una migliore efficienza del nostro sistema ambientale e da questo punto di vista e concludo su questo la vostra proposta che è già stata sperimentata a quanto ho appreso oggi anche nell'area del nord del nord Europa di un monitoraggio di un controllo di un misuramento di quelle che sono le emissioni fatte diciamo così in maniera molto puntuale e scientifica rappresenta certamente un contributo che noi non solo apprezziamo ma che vogliamo portare avanti grazie ringrazio anche l'onorevole migliore lo ringrazio in particolare perché tra le altre cose tutte molto interessanti ha parlato di GNL in questa stanza credo che ci siano senza ombra di dubbio i più grandi esperti italiani grazie a tutti